sa prova prova carissimi amici carissimi amici del 1999 è in diretta da hill valley il vostro doc brown che vi parla non è vero assolutamente nulla come al solito e lo zio capitan zero capitan z paziente zero all slow video gamer torniamo in diretta in video visione disse qualcuno con il nostro carissimo castro venina symphony of the night il gioco che è uno dei giochi che mi ha accompagnato e mi ha praticamente segnato la vita forse un po' esagerato da lì comunque uno di quei giochi che decisamente significativo per quanto mi riguarda abbiamo fatto la prima puntata il primo episodio alcuni giorni fa lo potrete trovare tranquillamente rivederlo sul canale di youtube semplicemente stiamo facendo un gameplay mentre ne parliamo giocando vi farò notare alcune particolarità vi farò ascoltare le musiche perché per quanto mi riguarda sono tra le più belle mai scritte mai prodotte per un videogioco almeno a mio modestissimo parere ma ho incontrato tantissimi tantissimi fan e tantissimi come posso dire avalli insomma tantissime conferme su questa cosa va bene non indugiamo oltre e lasciamo partire castlevania mi sono premurato di allargare un pochettino lo schermo giusto per avere una visuale un pochettino più chiara non dovrebbe non dovremmo rimetterci come si dice in termini di di grafica diciamo non dovrebbe rovinarsi non dovrebbe andare fuori pixelatura è semplicemente una zoomata poi insomma facciamo questa puntata così se non dovesse essere proprio gradevole se dovesse dare fastidio insomma cambiamo è la come posso dire non lo rifacciamo lo rimettiamo da capo insomma non è un problema bene cominciamo riprendiamo il nostro salvataggio sembra che sia abbastanza visibile sembra che possa andare tranquillamente livello 6 tempo di gioco sono 38 minuti ma come come dovreste ben sapere i tempi di gioco per quanto mi riguarda sono molto lenti quindi non so quante e quante ore perderemo a giocare o impegneremo a giocare perché secondo me non è una perdita di tempo ma è un bell'impegno diciamo certo ci sono sicuramente cose migliori da fare ma anche cose molto peggiori quindi il 10 per cento è fatto e vi assicuro che ancora molto 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 poco perché il gioco va visto va ripreso va insomma va anche visitato più volte e quindi possiamo tranquillamente riprenderlo bene avvio la partita la grafica sembra essere piuttosto piacevole normale sì non mi pare che sia sgranata o cosa del genere vediamo che dice la mappa siamo arrivati alla marble gallery lui chiama ma galleria di marmo giustamente io non sono più abituato o meglio non sono mai stato abituato a dare nomi in italiano questi posti quindi non non saprei dirvi sinceramente un attimo mi arriva una segnalazione di trasmissione interrotta per quale motivo dovrebbe essere interrotta datemi un attimino per favore che provo fare un aggiornamento non è interrotta la trasmissione almeno per quanto io da qui vedo che la trasmissione va avanti tranquillamente ora vedo un attimo scusatemi perché mi segnalano che la trasmissione è interrotta non dovrebbe essere perché io trasmetto tranquillamente ora non so sinceramente se ci siano dei problemi di sorta provate magari a chiudere il browser e a riaprirlo perché non mi pare che ci siano problemi di trasmissione almeno io non li sto riscontrando nel... insomma il... come posso dire la funzione di trasmissione del... no è attiva tranquillamente non mi date questi problemi sinceramente poi non so magari ci possa essere è stato un attimo un... un buco insomma una perdita di pacchetti da parte di Twitch lo sapete poi come i problemi di trasmissione e di connessione dalle mie parti sono frequenti quindi non c'è niente di... perdonatemi niente di strano oddio è strano tutto però diciamo che non è nemmeno strano perché siamo un pochettino abituati vediamo a che punto siamo con il nostro equipaggiamento penso che non ci siano particolari cose da sistemare noi infatti colore finestra possiamo cambiarlo lo mettiamo tutto al massimo quanto arriva 15 15 ecco lo mettiamo tutto grigio per adesso chissà che non è proprio carinissimo diciamo però va bene uguale allora c'è un commento che vado a leggere della signorina Captain Harlock e rieccolo si rieccolo lui immagino rieccolo sicuramente parli di Alucard e non di me comunque Harlock buonasera bentornata io mi appresto a riprendere la mia partitella carinissima a Castlevania Symphony of the Night vediamo se c'erano dei posti in cui mi ricordo ci si poteva sedere non è questa la sedia in causa benissimo io vi voglio ricordare ancora una volta che se vi aspettate una partita veloce una di uno speed run siete proprio fuori fuori strada siete proprio a canale sbagliato questo disgraziato è potentissimo però abbiamo avuto la fortuna di fargli un colpo critico ed è andato giù subito ho due colpi per fortuna forse in questo momento abbiamo preso un pochettino di potenza in più perché questi disgraziati piccolini sono di una potenza devastante davvero soprattutto all'inizio beh all'inizio è un po' tutto difficile eh da cogliere anche i soldini tra l'altro c'è una cosa particolare voi non credo potete notarla però ve la faccio notare io se avete una cuffietta praticamente potete notare che in questo momento sul lato destro c'è il rumore dell'orologio io sto un attimo in silenzio così ve ne rendete conto è proprio sul canale destro se io mi allontano si sente un po' più flabilmente immagino l'abbiate sentito va bene riprendo la mia strada era giusto per farvi notare le particolarità come vi ho detto prima io quando porto i gameplay sono lenti per una ragione o meglio per più ragione perché praticamente io ho voglia di scoprire di farvi scoprire di fare un po' di tutto c'è un altro commento bastardi nani malefici sottellanti immagino che tu sia remora di qualche versione precedente di castelvania vero dove questi disgraziati soprattutto nei primi castelvania nel primo e nel terzo sono di una potenza devastante e fastidiosi di una forza incredibile soprattutto quando si è a livelli bassi poi qui magari si sale di livello quindi si va avanti ma nel primo castelvania che il livello te lo puoi salare praticamente questi maledetti mostriciattoli sono fastidiosissimi veloci potenti e ti distruggono l'anima e purtroppo è una delle caratteristiche di castelvania sono proprio questi maledettissimi saltellatori che non mi ricordo in questo momento come si chiamino sinceramente però insomma si sono dei grandissimi bastardi te lo concedo proprio chiaramente ok ora c'è questo mostriciattolo che a me piace tanto questa specie di bambolina che anche questa è abbastanza disgraziata e malefica l'abbiamo evitata grazie a un mezzo trucchetto che mi sono l'ho ricordato solo adesso che mi è riuscito a farlo per caso perché sinceramente non non me lo ricordavo minimamente ok c'è anche questo c'è un altro commentucolo leggo ancora non sono potenti ma sono fastidiosi esattamente come la testa di medusa oh non mi parlare della testa di medusa ti prego c'è una parte qui in questo gioco che vedremo più avanti probabilmente anche stasera ci arriveremo in cui queste teste di medusa sono talmente insistenti no ci arriveremo credo sicuramente che non hai idea di quante volte morirò grazie a queste teste di medusa e quante volte proverò a fare salti controsalti andare avanti indietro per cercare di di evitarli perché di evitarle perché sono disgraziatamente malefiche ho trovato un anello che cos'è questo anello vediamo è di equipaggiamento anello vediamo cosa da anello ci da un po' di intelligenza da sei passa undici dato che non abbiamo niente in questo momento noi lo attrezziamo lo equipaggiamo di tutto sembra qualsiasi cosa forse un anello a dire la verità poi noi lo diamo per buono qua c'è un'altra reliquia sfera spirito apriamo subito questa reliquia vediamo nel nostro inventario mostra il danno del nemico si semplicemente ci da i numeretti che indicano quanto danno facciamo ai nemici è una cosa basilare però c'è è sempre una cosa da trovare proseguiamo in questa marble gallery e nel frattempo se potete cercate di memorizzare la musica ok giusto per farvi fare un attimo di mente locale perchè ora che l'avete ascoltato diciamo vabbè la potreste memorizzare tranquillamente insomma si trovano anche le ost su internet però ecco da queste parti vabbè dicevo per la musica poi vi farò notare una cosa da queste parti c'è un altro disgraziato malefico che è di una potenza sovrumana ai primi livelli ed è anche bello da vedere e me lo ricordo perfettamente eccolo questo disgraziato con questa palla che arriva tra l'altro lontanissimo ecco vedete che ci ha i numeretti aiuto questo mostro fantastico mi piace un sacco però è difficile non è difficile è semplice diciamo da da picchiare però è potente lui se mi colpisce questa cosa forse faccio col 22 quindi in questo momento penso che mi farebbe parecchio male con una pallata di questa critico 72 fare un colpo cioè colpi da 2 2 2 poi dai 72 di critico fa abbastanza male il 7000 per cento di danno critico praticamente adesso lancia i boomerang si quando si trova in difficoltà questo disgraziato si piega e si mette da parte forse quando io sono troppo vicino lui non ha la possibilità di scappare ma non ricordavo questa particolarità ok io vado rompendo cercando di rompere tutti i muri perché non ricordo sinceramente tutti i segreti dove sono tutti gli oggetti qualcuno lo ricordo come quello che anche questi sono disgraziati questi mostrettini sono finchè devo prenderli con con due colpi sono abbastanza disgraziati devo cercare di evitarli almeno per ora prima di farmi distruggere perché altrimenti per quanto possa sembrare disgraziato sto coso insomma non sono semplice quando gli devi dare un secondo colpo già diventa difficile serve un altro pochettino di forza giusto due danni in più per poterli togliere di torno immediatamente diciamo ora qua ci dovrebbe essere quell'altro figlio di brava donna ecco io mi ricordo che questo lo cercavo di evitarlo ai primi tempi infatti mi ha distrutto ah ragazzi dato che non abbiamo salvato se ne parla di andare a prendere il salvataggio dal quale siamo usciti prima insomma la strada è lunga mi dispiace usciamo a divertirci stasera la notte ancora giovane fine par brutto però questo fine par perché prima era game over si vedeva proprio a schermo intero questo fine par lascia un pochettino a desiderare anti antistitico diciamo anti estetico e va bene devo riprendere il file di prima ragazzi purtroppo è così l'unica pecca di questo gioco è quando c'è una distrazione e non si riesce insomma a a campare devo fare tutto da capo mi dispiace cioè a me non dispiace perché sinceramente il gioco mi piace quindi è un problema per voi che vi dovreste rivedere praticamente lo stage da capo allora prima di scendere laggiù noi facciamo un'altra variazione proviamo ad andare da questa parte e cerchiamo di uccidere questi disgraziatelli l'ho preso al volo però cioè mi ha colpito mentre cercava di colpirmi sono stato occulto insomma da da prendere al momento giusto e non farmi colpire va bene andiamo avanti da questa parte allora poi magari quando siamo un pochettino più potenti scendiamo in basso alla Merble Gallery oh gioia allora 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 Ciao ciao cara Maria È una delle persone che fa piacere vedere in questo gioco Ma che purtroppo non vedremo tantissime volte Non si può ancora salire lì su Va bene ma ci saliremo a tempo debito Spero credono sicuramente Più avanti ci saliremo Di nuovo i nostri cattolini saltellanti Puglio di cane Mi ha preso proprio a volo Il maledetto Va bene andiamo avanti da questa parte Abbiamo incontrato la nostra amica Maria No in questo momento preferisco avere i coltelli sinceramente Per buttare giù il tavolino ci vogliono tre corpi A meno che secondo non riesca insomma un pochettino più potente Però l'allarma che ho a seguito risulta un pochettino più potente Della spadina Ma insomma ci vuole trovare un'altra spada diversa Mannaggia la miseria Evitare anche di farsi colpire in maniera stupida da questo tizio di qua Ti ho visto Una botta di culo anche però l'avevo vista che la legge si nascondeva il mascalzone Si faceva scuro anche lui della scala Io l'ho preso anche come posizione di vantaggio Anche in questo caso Il tempo bisogna... No per adesso il tempo non ci serve fermarlo Lo fermeremo dopo In seguito Andiamo il tempo di... Anche il libro in questo momento E' buono che ci gira intorno e serve da difesa Va bene per ora usiamo questo dai Chissà possa essere utile Negli intorni qui se non sbaglio ci dovrebbe essere un'altra save room Che ci serve comunque Dobbiamo prendere una save room al più presto In ogni caso Che si è verziata malefico Ma mi ricordo dove sia la save room sinceramente Qua cambiamo già Sì perché io istintivamente ho cambiato questo per lanciare il coltello Ma in quel momento non avevo realizzato che avevo già preso il libro E che quindi non potevo fargli il danno direttamente insomma Ecco qui c'è l'altra porta sigillata Della quale avevo già parlato nel primo episodio E per le quali adesso dato che sono due Vi racconterò l'enigma o meglio l'aneddoto chiamiamolo così Che si verificò quando io giocai la prima volta Le prime volte anche perché veramente Ho cominciato diverse partite prima di capire Di scoprire casualmente insomma di cosa si trattasse Tè d'orzo Vediamo che cosa è questo tè d'orzo Vabbè è semplicemente qualcosa da consumare Fresco tè d'orzo Come si sistemava questa cosa? Ah ecco Io facevo così praticamente Mettevo a sistemare Le cose che si potevano mangiare Più giù E le cose che si potevano consumare Pozione Avevo direttamente Praticamente facevo così Adesso non mi ricordo di preciso come facevo Però mi ricordo che sistemavo le cose in questa maniera Praticamente Andavo giù Così facevo Le varie sezioni Perché purtroppo nell'equipaggiamento Questa diversificazione avviene in maniera un po' strana Guarda tre ruggine rosse Cioè non me ne faccio una marba assolutamente Ne ho tre È una cosa incredibile Bene Ma purtroppo non ci si può fare niente Mettiamolo qua per adesso Così abbiamo soltanto Qui mettevo le spade che erano di seconda scelta Perché poi queste diventeranno comunque inutili bene o male Sono basilarie Sono di potenza praticamente inesistente Poi ci sarà qualcosa di più potente Ovviamente Ma lo vedremo in seguito Per cui per adesso lascio vuoto insomma Va bene Andiamo avanti Serve immediatamente poter salvare Altrimenti devo tornare indietro Ah mannaggia Ho dimenticato il movimento del tasto diretto Vediamo un po' Non c'è gran che da fare Perché là sopra c'è la porta Quella Quella azzurra E qua c'è Il corridoio Va bene Allora direi che dobbiamo consumare qualcosa Per poter Per poter ripenderci un pochettino Utilizziamo questo brasato Lo utilizziamo subito Ci curiamo tutto Va bene Il massimo che possiamo avere per ora è 41 Ci accontentiamo E che non possiamo avere di meglio Ok Andiamo avanti Caro Alucardo Guardate c'è l'occhio là dietro Nella finestra che ci spia Un occhio volante Ci fate caso sì Questo L'uricano è qua Ma è potente A morte Ma quella signorina Lissata è parecchio Graziosa Devo dire Certo In queste situazioni Come vi dicevo Che ogni mostro Ha la sua morte Che è particolarissima Insomma Non vedete che non è bello Il modo In cui ogni creatura Ha la sua morte Il suo modo di esplodere Di Di prendere il danno Guardate È spettacolare Cioè se pensiamo Che si tratta Di un gioco del 97 Certo L'ha stato Già preso Da Diablo In modo In cui Muoiono le creature Diversamente Perché Diablo È del 95 Si ricordavo Non mi prendere più Per favore Con queste Meno male che C'è questa Questo libro Che ci aiuta Praticamente C'è un altro commento Che vado a leggere Sempre Arloc Come attacco secondario Usi la Bibbia Non è attacco secondario È l'arma speciale Sì diciamo Che la Bibbia Dovrebbe Essere la Bibbia A testa sua Si capisce Ci è stampato Il crocifisso Quindi Teoricamente Dovrebbe essere Una Bibbia Ogni colpo Da 8 Però Che ha la signorina È difficile C'è un altro Cuoricino Ci servono In questo momento I cuoricini Forse è meglio Questa però Vabbè che abbiamo Già finito Oh Ce ne andiamo In un'altra parte Qua ci serve Il caricamento CD C'è un altro commento Putenda Musica Se ci fate caso È la stessa musica Della Marble Gallery Rearrangiata In orchestra Lo zircone È semplicemente Un anello Da poter vendere Non ha Attributi Il rimolo della pioggia Lo sentite È pioggia Qua ci sono Quei maledetti scheletri Che fanno Male Della miseria Nonché I cavalieri azzurri Va bene Lì non si può salire Almeno non adesso Che ci deve essere Una save room Qua vicino Negli intorni Eccole qua Le teste di me Lo sapete Che questo Disgraziato È di una potenza Famelica Tra l'altro Con questo Sparino Non le uccideremo Mai Sto cavolo Di cose Ecco Volevi le teste di me Deve usarlo Che cosa L'è qua Però mi ha dato L'avevato Ci sta Questo me lo ricordo Blasato E poi c'è Qualche Qualche Altra cosa Qua C'è un punto Qua Che mi ricordo Che si rompeva Verso Il basso Non mi ricordo Quale Sia di preciso Sì Mi ripiglio il mio coltellino Per adesso Che Infanzia Sia L'ereto Pompontinello Più utile Però La evito Perché Praticamente Cercare di distruggere Pressoché Improponibile Eccoci Eccoci qui Giù Un gufetto Quando Che sia un gufetto È il suo nido Vedi che tranquillo Lui O lei che sia E qui Per chi non lo sapesse Guardiamo con il Candocchiale E c'è colui Che avevo Soprannominato Carompe Ai tempi Magari questa cosa Qualcuno Non la sapeva Se non l'avete saputa Finora Adesso lo sapete È una stupidaggine Ma c'è Quello fa una volta sola E qui Eccolo Vabbè Mi siedo Qualche minuto Ragazzi Giusto per Per prendere Un sossino Di acqua Ne approfitto Quindi Non fate caso Ai romoracci Che sentirete Per favore Sto bevendo Un attimo Mentre Alucard Si rilassa E io bevo Mi pare anche giusto No? Visto che belle Giocatine Tranquille Che ci facciamo Qui Con i nostri All slow play Altro che Speed run E speed run Non fanno per noi Non siamo tipi Da speed run Assolutamente Bene Direi che possiamo Andare avanti A questo punto Siamo tutti d'accordo Si Alucard Sei d'accordo Allora alzati E butto poltrone Fa il tuo lavoro Non farsi rincorrere Dalla testa Di medusa Cento Nonate Fanno sempre Comodo Annaggia la miseria Io cerco di evitarle Perché per adesso Sono troppo Debole La nebbia può passare Si lo so Carano Ah da qui non posso andare Scusa Avevo dimenticato 8 danni Fanno queste cose Al momento Sono troppo 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 Potenti Loro E troppo Debole Io Ma se lì Non possiamo andare E da qui È l'unica Via Finisce il rumore Della pioggia Però qui Ecco io Non volevo Assolutamente questo Mannaggia la miseria Niente Salvataggio perduto Anche questo Tutto da capo Di nuovo Il saluttino Di Alucard Sì Probabilmente E niente ragazzi Purtroppo Le prime giocate Di Castlevania Symphony of the Night Sono così Bisogna Morire un po' di volte Purtroppo Perché è difficile È difficile All'inizio è difficile Mi dispiace Farvi fare La stessa Suolf Insomma Più volte Ora devo Semplicemente Ricordarmi Di andare Un pochettino avanti E poi tornare A Semplicemente Tornare a salvare Bisogna Semplicemente Essere un pochettino Più potenti Fare un pochettino Più di allenamento E poi venire A passare Allora scendiamo Un po' giù Vediamo fino a dove Riusciamo a non andare avanti Mi ha tirato il vaso Mannaggia la miseria Ma quanto sei Scortese Ti rendi conto Il tavolino Che mi tira il vaso Sai che ti dico Io salvo di nuovo Ecco Sì Sopra scrivi i dati Ecco Un diventi Si trasforma In nostro diventi Io non chissà Perché hanno messo Questo diventi Ho dato 20 faccia Per chi non lo sape Sono quei pochi Che non conoscono Il GDR Ormai Vediamo Preso anche un altro livello Che è cosa buona E giusta L'avevamo preso Un po' prima Però Non è male Adesso C'è una cosa Che non succedeva Prima Perché adesso Il pad vibra Quando io faccio Questo tipo di cose Il pad Ha una leggerissima vibrazione Proprio Si percepisce Per prima Però è grazioso Certo forse è un po' esagerato Ma guardalo Hai capito? Si era messo lui Anche lui Nascosto Grazie alla scala Questi scheletri Non avendo cervello Sono abbastanza furbi È riuscito con un colpo Perché ogni tanto Funziona Diciamo Il danno Superiore In confronto a quello Che fa mediamente No? Cioè perché il danno Non è fisso Si può considerare Per esempio Che ci sia un danno Da 2 a 4 Per esempio Da 2 a 5 Fai il danno Base Che magari In quel momento È 2 2 2 Poi ogni tanto Gli esce il corpo Da 3 Si signori Come faccio io A scendere di sotto Ci ha presato l'anello La signorina Di prima Che io mi appresto Di nuovo A indossare subito Dato che Poi magari Per quanto riguarda Sistemare di nuovo L'equipaggiamento Lo faccio offline Dai inutile Che lo rifacciamo Prendere un pochettino Di tempo Questo prima Per farvelo notare Così per farvi vedere Che si può fare Qualora Poi desideriate Voi giocare Per i fatti vostri L'ho comprato Cosa del genere Sapete che Insomma C'è questa opzione Perché non tutti La facevano C'è chi tiene L'inventario Abbastanza Confusionare E' una cosa Che a me In generale Non piace In qualsiasi gioco Avere L'inventario Un po' Confuso Non mi piace Quindi cerco Sempre bene o male Di sistemarlo Poi Ognuno Ha il suo modo Di giocare Praticamente Allora Prima di poi Arrivare laggiù Da quell'altro Disgraziato Secondo Diciamo Secondo Nemico Quello Quello che vuole Che sputa il fuoco Quello con la Con la palla Diciamo che va bene E' affrontabile Con un pochettino Di attenzione Ma quell'altro E' abbastanza Ostico Aiuto Bravo Sono stato un po' Più veloce Stavolta Dai Abbiamo approfittato Anche di sparare Gli 74 miliardi Di coltellino Diciamo che Ecco Bravo Imparisciti Critico 63 Se gli facessi 4-5 critici Consecutivi A quel mostraccio Maledetto Non sarebbe affatto male Quali devo Evitare Perché Sono Disgraziatamente Fastidiosi Se io li lascio Liberi di muoversi Dato che loro Attraversano anche I posti Che normalmente Cioè quelli che per noi Sono ostacoli Tipo queste cose Le mura E cose del genere Loro Da buoni Fantasmi Giustamente Li attraversano Quindi Non è il caso Di Combatterli Nel posto In cui loro Sono avvantaggiati A me Non adesso Che io devo Utilizzare Più colpi Ok L'ho fatto fuori Direttamente Così abbiamo preso Un altro livello Ho usato I coltellini Così Insomma A parte Per cui La distanza Mi fuori Si fa Merto Prima L'acqua Santa Ma preferisco Però le coltellini Grazie Così ci sblocchiamo Anche questo passaggio Dai Altro lettore CD E sblocchiamo Qui Pozione scudo Vediamo che cos'è Che cos'è La pozione scudo Aumento temporaneo Di difesa Per ora La mettiamo Completamente In basso E dato che Qui vicino Abbiamo la stanza Di salvataggio Che è proprio Qui giù Andiamo a salvare Immediatamente Che ne dite Prima che questo Fanelico Dispiaziato Ci distrugga Pura lui Così evitiamo Di rifare Praticamente Il giochino Che abbiamo fatto Prima E ci siamo Anche sbloccati Un altro passaggetto Che è abbastanza Comodo Adesso abbiamo 42 Punti feriti Prima ne avevamo 41 Ragazzi A livello Siamo aumentati Di 42 Perché tra l'altro C'è la cavolata Che Sì abbiamo Messo il codice Quello per la fortuna Infatti vedete Fortuna 99 Però mettendo questo codice Tutte le altre Caratteristiche Si abbassano visibilmente Si parte da Con punteggi Più bassi Per questo E' anche un pochino Più difficilotto Inizialmente Tu ci segui Lo so che ci segui Una moneta Wow Siamo diventati ricchi Un'altra qui Però non abbiamo Granché da fare Sennò Ritornare Sui nostri bassi Bisogna fare La strada Più volte Come vi avevo detto Questo è Più piccolino Fate il salto Di modo che Non si arrivi All'altezza Del loro Po di spada Quindi potreste No potreste Potete tranquillamente Uscire Dalla Dalla loro linea Di tiro Diciamo Ecco Così Ora vediamo Possiamo decidere Se rifare la stessa strada Così magari facciamo Anche un pochettino Di esperienza E non è male Se no dobbiamo tornare Da questa parte Sotto il Marble Gallery Diciamo Quella specie di S Un po' più centrale Ma No Io preferirei fare Per adesso La strada Da questa parte Perché teoricamente Dovebbe essere Un po' più facile E ripeto Ci Facciamo ancora Un altro poco Di esperienza Che non guasta Colpito e affondato 118 Stavolta Ancora Comunque Veramente Siamo bassi Mi rendo conto Di essere ancora A livello basso Perché veramente Ci sono colpi Critici Che arrivano A avere Punteggi Molto Altro Che 60 118 Si arriva A avere colpi Critici Che sono Altro che Critici Sono Devastanti Ancora 8 Danni Cioè Veramente Siamo All'alba Davvero Io ricordavo Di fare Danni Impressionanti Altro che Ma anche Di armi Impressionanti Avere Delle armi Particolarissime Bellissime Che ci sono Armi Molto Molto Fantasiose In questo Gioco Ancora Veramente Non abbiamo Visto Niente Le prime Puntate Sono Sempre Le più Stressanti Tra virgolette Perché Comunque C'è parte del gioco Che non vediamo Perché non c'è ancora Bisogna fare esperienza Necessariamente Perché Il Il nostro Alucard Deve Per forza Ehm Aumentare Di livello Grazie Bella Caro Scusa E' questo Per far salire Lì Mi ricordavo Che c'era Un trucchetto Per poter Passare Lui Nella Vabbè Ma non è il momento Questo Si farà più avanti Proseguiamo Perso il nostro Laboratorio Alchemico Inutile Ripassare In quella Stanzina Perché Già L'abbiamo Completata Quindi Facciamo Solo La strada Che ci Porterebbe Di nuovo All'altro Ambiente Qua Si rompe Solo All'altra Parta Rompela Tutte E due Non avrebbe Doanche Senza Ola Guardate Se è taccato Il cuoricino Però me lo sono rubato Lo stesso Ci siamo già stati Di vero Ho sbagliato Tasto Scusate Sì Ci siamo Già saliti E quello Che dovevamo Fare L'ho fatto Per cui Non ha Importanza Non ha Senso Questo giro Lo devo fare Necessivamente Perché Altrimenti Non posso Incredibile 19 Però L'ho fatto Fuori Quello 7 7 14 Non è Andato Dato che Qua c'è Un'altra Save Room Noi facciamo Un altro Salvataggio Così ci assicuriamo Anche questo Livello E questi Oggetti Sì Lo so Ragazzi Che è un pochettino Seccante Mi piacerebbe Andare avanti Ma stiamo Andando Comunque Avanti Vediamo Quanta esperienza Abbiamo Successivo 401 E ancora Ce ne vedo Insomma Salto Salto Sempre più in alto Che era? L'agnello rimbalzello Se non l'avete visto Vedete L'agnello rimbalzello È qualcosa Di fenomenale Ed è un Pixar Che hanno fatto Prima degli Incredibili Se non ricordo male Che la Pixar Aveva Non so se ce l'abbia ancora Ma mi pare Che all'inizio Di ogni Lungometraggio Loro Facciano sempre Un cortometraggio E all'inizio Gli incredibili C'era questo L'agnello rimbalzello Che le risate Che mi sono fatte Al cinema Perché non me l'aspettavo Mille È stato Veramente Veramente Bello Bene Proseguiamo Da qui Il prossimo Posto Che dovevamo Vedere Non l'abbiamo visto In stati Sì I sound Sono un pochettino Cambiati Devo dire C'è qualche Effetto diverso Magari Lo ricordo Io Diverso Poi Non lo so Infatti Questa torre Non l'avevamo Fatta Oh Gli occhiali Da sole C'è un altro Commento Della signorina Arlock Aspetta Se muori E non salvi Perdi tutti Gli oggetti Esattamente Ogni volta Che muoio Praticamente Non 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 ho Memorizzato Quello che ho fatto Dall'ultimo Salvataggio Non è come Giochi moderni Che praticamente Esci E salvi Automaticamente Qui salvi Ad ogni punto Di salvataggio Com'è Silent Hill Del resto Silent Hill Se non vai A punto di salvataggio Non salvi Gli attacchi Proprio Ma ti attacchi Seriamente Allora L'anello L'anello ci da 5 di intelligenza Gli occhiali Ci hanno uno Di difesa Ma ci tolgo Uno di intelligenza E siccome Non mi interessa Metto l'anellino In questo momento Perché Meglio avere 5 punti Intelligenza Che uno solo Di difesa Scendiamo ancora E così Cara Harlock E così Se non salvi A Castlevania Ti attacchi Al cosiddetto Non voglio dire Altro E qua siamo Praticamente Guarda che bellina Questa scena Visto Baselardo Non sapevo Che si chiamasse In italiano Baselardo Il Baselardo Che ci porta All'attacco Vedi Da 10 a 9 Semplice Spada corta Che tra l'altro Non lo faccio vedere E' ancora più piccolino Vedi Però l'attacco E' diverso Se lo noti Sicuramente Se io metto La spada corta Lui attacca così Vedi E' lento Io sto premendo In continuazione Giusto per farti Rendere conto Se invece Metto il Baselardo Lui attacca In continuazione E' un po' più veloce Però allo stesso tempo Ecco Vedi dove siamo Quindi quando era prima Dove cercavo di salire Praticamente Noi risaliamo di qua Perché non ce ne fregherebbe Assolutamente niente E adesso tengo Il Baselardo Solo perché è più veloce Risaliamo Rifacciamoci La nostra strada Verso indietramente Servirebbe fare Un altro save Perché Il posto è molto lontano Quindi lo vado a fare Giusto che abbiamo scoperto Anche questa torre Che prima Non avevamo scoperto C'è un altro commentino Sì Gli occhiali da sole Sono quelli di Helsing O meglio Helsing ha preso Questi occhiali da sole Semmai Vabbè Si presuppone Che sia lui No? Si presuppone O hanno Modificato Insomma Un po' La sua presenza Per mettere La Helsing Però Io non Non sono d'accordo Però insomma Concediamo Comunque È ok Il base è lardo Sì È bello Cioè È ok Perché è veloce È perché È Tra virgolette Vedi Io colpisco anche lui Quando Quando mi dà il colpo Quindi ho diciamo Quell'attimo di vantaggio È un po' più difficile Da usare Perché va usato Da più vicino Però In quanto a velocità È migliore Sicuramente Poi È gioco Molto Molto avanzato Ci sono delle spade Davvero bellissime C'è un modello Che è praticamente Io È quella che io adoro In assoluto Adesso mi sfugge Pure il nome Quale sia E praticamente No vabbè Niente Non lo dico Dai Non so se Lo hai visto In qualche altro Gameplay Così se non l'hai visto Poi Lo scopri qui Con noi Faccio un altro save Così ci teniamo Il nostro bel Baselardo E possiamo andare avanti Avantemente In questo gioco Per questa sera Io mi Mi proterrei Un po' più Del solito Perché sinceramente Sono Abbastanza riposato Poi non ho Impegni particolarmente pesanti Per di mattina Quindi Finché mi va Io andrò avanti Alla vecchia maniera Mi ricordo quando ero più piccolino Parliamo di Oltre vent'anni fa Che Anche quando dovevo andare A lavorare Non me ne fregava niente Passavo le nottate fuori O con questo O chissà con quale altro Io riunivo anche con gli amici Per giocare a Silent Hill Facevamo proprio la serata A Silent Hill Ci riunivamo Dopo cena O anche per cena Prende una cosa più insieme Sai che gli amici Insomma Si fanno queste cose E poi passavamo Tutta la sera Solitamente me lo provo Sempre io Silent Hill E passevamo la sera Così A giocare Insomma Giocavamo Tra virgolette Ne avevo io Ma si giocava In pratica insieme Non era Un Un gioco solo per me La Questa La cosa bella Era questa Che seppur Giocando io Cioè muovendo io Avevo Io e le braccia Ma poi eravamo In 4 o 5 A giocare tutti insieme Quando c'erano anche In lunga risolvere O cose del genere E non è Solo quella volta Quello giocatore Una delle tante volte Perché poi C'eravamo molto appassionati E non Non abbiamo giocato Poi più Perché comunque Dopo che è uscita L'altra versione Di Silent Hill Praticamente abbiamo giocato I primi Qua 1, 2, 3, 4 Sicuramente No il 5 No perché poi Il 5 è uscito PS3 Già eravamo più avanti Quindi no I tempi Delle serate Playstation Erano finiti Praticamente Purtroppo Purtroppo perché È una cosa Che mi è dispiaciuta Tantissimo Mi piaceva giocare In gruppo Il punto Il punto in cui Era precedentemente Non era proprio Assolutamente Il caso Di presentarvi C'erano dei lavori Che andavano Necessariamente fatti Li ho fatti Ci lavoro ancora Faccio qualche altro I nostri I nostri Ciattoli Li possiamo Affrontare tranquillamente Ma quando si parla Di cavalieri Quelli sono troppo potenti Troppo veloci Anche questo Disgraziato Guardi che potente Guarda C'è Due passettini Idioti Tre passettini Idioti E ho otto 15 di energia È un disgraziato Malefico Il tuo mostro Questo Sono stati un po' Più fortunati Un po' Più pronti Eh sì Non l'avevamo Incontrato E ho saltato Il discorso Tanto c'era già Registrato Prima Ma l'abbiamo già visto Quindi non ha senso Fa piacere La voce di Maria Le doppiatrici Giapponesi Ci piacciono Abbiamo Le esperienze Di Ruthlet Ma guardalo Un po' Sono di una velocità Pazzesca Sti disgraziati Malefici Quanto possono essere Potenti Davvero È incredibile Ho otto Metà dell'energia Praticamente Ecco Qua c'è l'altra sedia Ma io riuscivo A stermi qua Non mi ricordo Sinceramente Quanto pare No Va bene Mi ha preso Proprio all'ultimo Disgraziato Camminato Fiala mostro Tra Cosa serviva La fiala mostro Non mi ricordo Mi è un momento Evoca Alleatro Scheletro No Adesso Però Potrebbe servire Sicuramente Tu si nasconde Ti rendo così Come ho fatto prima Non è riuscita La stessa mossa Di prima Sì Mi ricaricherei Comunque Perché Insomma Siamo Un pochettino Messi in una posizione Non proprio Graziosa E' un po' Uno spreco Sprecare uno Da cinquanta Per ricaricarsi Un po' Più di venti Però insomma Sempre meglio Che andare a ricaricare L'ennesima volta Sai cosa Mi toccherebbe A voi Fare Un'interruzione Solo perché Metto Diciotto volte Non è Grazioso Fare La puntata Tutta basata Su questo Insomma Sempre sulla stessa cosa A me piace giocare Quindi io sono Avvantaggiato Però Mi rendo conto Che per chi segue Potrebbe essere Anche un pochettino Noioso Stare a vedere Sempre Lo stesso stage Mi rendo conto Assolutamente Ci arrivo Sono scemo Fino a un certo punto Voglio dire Per scendere Da quella parte Ci vuole L'apertura Succede Solo in determinati Casi Anche queste cose Vedete Questo pezzo Di muro Che vedete Qui giù Si apre Solo in determinata Occasione Ci vuole Una Una funzione Particolare Per aprirlo Praticamente Allora Se Salissimo Ci sarebbe La Ottigina Quella Celeste Quella Sigillata Non vado a sbloccare Per sicurezza Perché comunque È giusto Che l'abbiamo Sbloccata Non si è visto Che gli ho lanciato Il coltello Questa è stata Una Queste azione Pardon Ecco Sigillato Magicamente Peccato che non lo sai Ma ci vorrebbe Nella mappa Un puntino Celeste Magari capisco Che la mappa Sia celeste Già di per sé Questi tempi hanno messo I Mannaggia Alla in serio Dicevo I Trofei Solamente per i mostri Che finora abbiamo preso Solo il trofeo Con il primo Boss Praticamente Che ai tempi Si chiamavano Mostri Ora si chiamano Boss Con i coltellini Va giù Subito Praticamente Non so se l'avete notato La faccio notare Adesso Che la ragazza Vedete Questa è Bruna Se non sbaglio Ogni tanto Capitava Ora forse Dico Una stupidaggione Che potesse avere Capelli Di colore Differente Forse Non era questo Il gioco Comunque In questo caso Non c'è stato Quindi non lo so Magari ricordo male Io Probabilmente Boh Non vi saprei dire Forse Non è questo Il gioco In cui ci erano I nostri Ciattoli Con Prima avevo Il libricino Praticamente Ora È un po' più facile Utilizzando i coltellini Naturalmente No 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 Lasciami questi Grazie Anche perché ora Abbiamo a che fare Con i cavalieri Che sono abbastanza Disgraziati Colpivi a distanza Nero esterno L'abbiamo già visto Zircone Come vi dicevo prima Giusto ve lo faccio vedere Un attimo Così vi rendete conto Anello brillante Vendibile Infatti Mi ricordo che c'era scritto Salabile E noi dicevamo Che era salabile Insomma che ce lo potevamo salare Per così dire Semplicemente Si può vendere C'è poi Un negoziante Non vi anticipo altro Presso il quale Poter vendere questi anelli E fanno comodo Perché giustamente Ti dà altri soldini E la miseria Mannaggia Va bene Ma sono a 10 Devo utilizzare Qualcos'altro Perché altrimenti Siamo di noi Pronto E a capo Addirittura Questo 80 Trovo sprecatissimo Ma non posso Farne a meno Almeno non al momento Non voglio rischiare Di fare ancora Di nuovo Lo stesso Livello Più volte Faccio le stesse cose Di prima Questo Questo lo vado a sbloccare Perché è carino Ce lo guardiamo Un'altra volta Perché tanto Non lo potremmo Vedere mai più Magari ce lo vediamo Due volte Nella stessa puntata Però Il nostro Caro 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 Qua ci dice La nebbia Può passare Praticamente Quando saremo Sotto forma Di nebbia Perché Non so se lo sapete A livello di cui Una delle reliche Ci trasformerà In nebbia Quello è l'unico Mamma mia L'abbiamo scrivato Per un micorno Praticamente C'è bene Ma che non ci va Niente Questo Sgazio Ce l'aveva dato Un po' Un po' Di esperienza Mi auguro Credo Spero Però Non ci da Nient'altro Abbiamo preso Un altro Brasato Che ci assicurerà Altri 50 Di energia Quando servirà Le teste In questo posto Bene o male Sono gestibili Ma quando arriviamo Dall'altra parte C'è un altro Pezzo Di livello Che sarà Veramente Terrificante Che io Me lo ricordo Molto bene Grazie No Non abbiamo finito Questo è il problema Questo è il problema Mi ricordo che sono due o tre Due Va bene Qua ci dovrebbe essere un altro Ah qua ci possiamo risedere Ecco c'è l'altro salottino Di alucardo Praticamente Visto Che carino Qua ci sono teschi Appesi Ma questi Facciamo a secondare Non è granché Rilevante Nel feeling Del salottino Oh un'altra save room Vedi ci siamo Finalmente arrivati Da qui in poi Ci eviteremo Il problema di dopo Abbiamo già salvato Abbiamo 43 punti ferita Che bello Yuhu Si la musica Ricomincia Quando usciamo Dalla save room E andiamo Nel Ah c'è un altro Boss Non mi ricordo Qual è questo Boss Oh il double danger Mi ricordo Come era Si lo so Anch'io lo potrò fare Non adesso Così era infatti Il trucchetto Me lo ricordavo Però Non mi è riuscito A farlo finora Alla lucardo Verso sa lucardo E loro lo chiamano Doppelganger Che proprio Solitamente è Il mostro Che per antonomasia Prende la forma Della cosa Che ti fa più paura Dove da essere Dracula Ma giustamente Non ti fanno apparire Dracula In questo momento Quindi la cosa Più potente Che c'è In anticipato L'ho fatto un critico Ed è stato Il critico Fortunato Prendiamo un altro Orb Adesso Max vita Adesso siamo A 51 Quindi questa E' cosa buona E' giusta E vado a risalvare Così ci mettiamo In tasca Insacchiamo Anche questo Level up E ci siamo Sbloccati Praticamente Anche perché Adesso andiamo In un posto Che è abbastanza Ostico Osticissimissimo Almeno abbiamo Tra virgolette Superato Quella Quel mattone Perché è già Abbastanza Difficile Siamo a 166 Del prossimo livello Però ci vuole Ancora un bel po' Di forza E ci vuole Un'altra arma Sì C'è un altro Commentino Mitico Di più Ecco qua Il Gladio Caro signor Gladio Che ci dà Da 10 a 12 Però L'attacco E' più lento Giustamente Però comunque Diciamo che Due punti di attacco Non sono male Max Vita E ci voleva Ha detto Polino In basso a destra Ha notato Sì Non dobbiamo In effigione Questa non si può Prima In questo momento Qua mi ricordo Le creature Che c'erano Che sono Questi Sì Qui andiamo In un altro Ambiente Ma prima Di andarci Saliamo su Ecco Questi sono Disgraziati Questi li conosce Anche dagli altri Castlevania Insomma Sono abbastanza famosi E questa mostra Fa male Giavellotto Vediamo cosa ci dice L'ho vista Quella cosa Che stava Credendo 12 e 54 Ah questo si usa Ho capito Quindi mettiamo Nelle ultime armi Il giavellotto E da lancio Va bene Infatti Infatti l'ho visto Ma non sono riuscito A schivarlo Proprio Arciere Un critico Da 61 Altri arciere No Così Sono I Quelli 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 L'arco Ma quello Da Utilizzare Unico Proprio Questo Missile Magico Sì Me lo ricordo Bene Questo Anche lui Da Tira Freccia Magica Però lo metto Da parte Dai Non lo posso Prendere Per adesso Per adesso Quella sarebbe Un'altra L'ediquia Capito Già benissimo Che cos'è Ma non lo vedo L'ediquia Oh signora Ricordo Questo Pezzettino Adesso Anche quest'altro Mostro È un Disgraziato Maledico Come ho fatto A fine Alla Spalla A questo Disgraziato La testa Minerosa Rossa Orangio Che sia Insomma Come ho fatto A schivarlo Nella zona Non chiedetemelo È stato un coppio Di fortuna Proprio Fortuna Sfortuna Lo stesso Alimento Ecco qua Ascensore Attivato Un po' più potente Del basalardo Anche un po' più Lento Il diario Però Ci toglie Da qualche Guaglio Max Quora In questo momento Ci serviva il max Vita C'è un problema Che se saliamo Là sopra Sto rischiando Rischio Il mio secondo C'è il terzo ambiente Da poter visitare Siamo arrivati Praticamente Al terzo ambiente Se ci avete fatto caso Ci sono tre ingressi Per tre Posti diversi Oh Una save room Non mi ricordavo Minimamente Di questa save room Però in questo momento Ci ha salvato la vita Siamo a 59 C'è un altro commentino Che vado a leggere Non è stato doppiato In italiano No No Completamente E' sempre rimasto Anzi Il fatto che Già si è passato In Come si può Sire Dalla Dall'inglese Dal giapponese All'inglese E' una mezza fortuna Il gioco Perdo Si No no In italiano Non c'è mai stato Questo te lo posso assicurare Ora io non ricordo Sinceramente Quale In quale spazio andare Però Cominciamo dalla base A questo punto Riscendiamo E ci facciamo Che mi ha preso due volte Inutilmente Questa Disgraziata Malefica Le odio Le pestelline d'usa Le odio Vado Vedi Basta Un attimo Sbagliato Io le manco E loro continuano A prendermi Ciao Anche questo fa male Che ci prende Vabbè Penso che L'ho capiato Dallo Tipo di cavaliere Che ha Dalla spada Che porta Insomma La spada Di 6 metri e un quarto Se ci prendesse Farebbe molto Molto male Ma nel frattempo Noi ne approfittiamo Per prendere Lupalma E vi faccio vedere Che cos'è Trasforma In lupo Eeeh Opla Con calma Però il lupo Niente Però può correre Naturalmente E' bellissimo Solo La scienza Da 106.000 km All'ora Il lupo Servirà poi A sboccare Delle parti Di mappa Che normalmente Non si potrebbero Sboccare Allora Direi di andare Da questa parte Dato che È il primo In grosso In basso Le altre cose Poi le scopriremo Tra un pochettino Di tempo Quindi direi Di aprire Questa porta Che ci porterà Io lo so Ma non ve lo dico E nel momento In cui entro Vi lascio Come al solito Un pochettino Di silenzio Per la musica Mi sono fermato Volutamente Che per quanto mi riguarda E' strabitoso Se dite Mi vuoi E' Superbio Beh Questo è lo zio Old Slow Video Gamer Insieme a Symphony of the Night Allora Questo mostro Che vedete Lì a sinistra È un bastardo Figlio di cane Spraziato malefico Quando è potente Questo di qua Se mi prende Mi distrugge Questo Cagnaccio malefico Anzi Questa volta Mi ha risparmiato Questo perché Era abbassato Antimaledizione Bello che gli cade Il tesco Che nuovamente Porta in mano Poi Si distrugge Guarda che bello Una bella stanza Previa morte Ci vado dopo Senti C'è C'è Guarda che creatura Assurda Che c'è Dopo che gli da il colpo Fa Sta cosa Ah non gli va in maledizione Però insomma Guarda La maledizione Non mi dà La possibilità Di fare L'attacco normale Fino a quando Dura Però con l'arma speciale Posso attaccare Eccolo è finito Antimaledizione Che serve Per quanto la pozione Che mi serve A togliere L'effetto Che mi ha dato Quel mostriciatolo Forse però Lo fa solo Quella verde Questa rosa Non mi ricordo Se lo fa Rosa Fuxia Che si Insomma C'è un groviglio Di anime E' un altro Level up Che non fa male Assolutamente Siamo A livello 12 Potenza 10 Per adesso Il danno Facciamo 13 Non è granché Se mi debba arrivare Non dico tante Magari un 200.000 Lo noti vero? Lo notate? Ora lo faccio notare io Eccolo Guarda come muore Cadono tutte le lettere E poi Cade I simboli Insomma E' bellissimo E' stupendo Resta il bagno Sinfonis the night Senza nulla Togliere gli altri Ma Qui hanno raggiunto L'apice Secondo me Aspettate L'avore Figlio di Buona madre Vedi che Escono pure a me Le bestegne Vediamo dove siamo La drapola Poteva venire in testa Di malaria Dei libbi E farli diventare Delle creature ostili Resta il bagno Sì, 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 sì. Questa è una cosa che c'è, l'unica cosa è vero? Vado bene, posso prendere la mano? Vado bene, ma... Vado bene... Vado bene... Vado bene... Vado bene... Vado bene... Vado bene... serve appunto a vendere quello che vi dicevo prima lo zircone che abbiamo trovato lo vendiamo perché tanto tenerlo a rigato cos'è massa questa è una cosa che sappiamo compra serve a comprare adesso vi faccio vedere una bella cosa questo praticamente servirebbe semplicemente a farci vedere come si uccidono le creature dopo il ganja appunto quello che dicevo prima slob e galbon sono i primi mostri dracula e dracula però è quello che abbiamo affrontato all'inizio con richter non è il dracula di questo naturalmente la lista nemici ci sono solo quelli che abbiamo incontrato come vedete ci sono delle linee ancora che sono quelli che dovremmo ancora incontrare contro oggetti quindi gioia chiave guardate cosa c'è scritto in basso apre le porte blu bloccate quando io giocavo la prima volta meglio le prime volte come vi dicevo questa gioia chiave non c'era praticamente non è che non c'era meglio c'era solo che io non avevo 4000 di oro come vedete lì in basso a destra avevo poco tipo 600 700 una cosa del genere perché non c'era nemmeno la fortuna che aiutava a trovare l'oro e questa cosa era scritta in giapponese sia la descrizione dell'oggetto sia l'effetto che faceva quindi io non l'ho mai comprata perché avevo 500 cioè avevo 600 700 dico non posso spendere 500 per una cosa che non ho idea di cosa serve un giorno non mi ricordo come in che modo sta cosa la comprai per caso casualmente facendo un errore sono tornato andando avanti indietro al castello dove c'era una di quelle porte sono passato automaticamente la porta si è aperta non mi dava quella quel blocco di come vi ho detto prima sigillato magicamente naturalmente scritto pure quello in giapponese solo che non ero riuscito a capire il perché si fosse sbloccata sta cosa è stato rimasto con un cretino lì venti minuti e guardare quella porta sboccata perché avevo fatto altre 45 partite prima che dico magari ho saltato qualche cosa non riesco a fare qualche cosa e rifacevo i livelli più e più volte cercando qual era il problema ed era comprare la gioia chiave adesso non mi ricordo come si come si chiamasse poi in inglese perché poi in inglese vedendo qua ho scoperto open the broken blue doors giustamente sono venuto a scoprire in inglese lo leggevo insomma tranquillamente lo vedete che davanti al bibliotecario sulla scrivania appare l'oggettino ed è proprio questo amulettino che noi compriamo comunque dobbiamo comprare gioia chiave poi la pozione lo sappiamo antiveleno antimaledizione lo sappiamo il martello depietrifica solo per famigli praticamente il martellino i famigli cosa sono sono delle creature che ci seguono e ci aiutano nel combattimento e c'è uno di questi famigli che ci perché nello stato in cui siamo pietrificati come prima ci ha pietrificato il fiore se vi ricordate lanciato quelle piccoli piccoli semi che ci hanno pietrificato il il famiglio per mezzo del martello ci sbloccherebbe il missile magico l'abbiamo visto il cortello buacca è da lancio la testa bibliotecaria serve a tornare istantaneamente qui nel momento in cui noi siamo in qualsiasi altra parte del castello torniamo qui io vi sto spiegando queste cose così se domani voleste voleste giocare magari non sapete o perché c'è scritto tessera biblioteca magica naturalmente monoso si usa si torna proprio qua in questo punto preciso spada è naturalmente una una normalissima arma però come vedete a due mani perché almeno alza sia il quadrato che il cerchio porta da 13 a 19 e quello da 0 a 19 portata necessariamente con due mani così come la mazza 1.500 2.000 mazza di ferro spada di damasco costa 4.000 portata 22 sempre a due mani scuro di cuoio ce l'abbiamo già scuro di ferro porterebbe la difesa da 4 a 7 ma costa 3 milano portata questione il cappello di velluto non ci serve a niente perché ci toglierebbe l'intelligente aumenterebbe uno di difesa il cappellino di cuoio nemmeno l'anello ce l'abbiamo già la corazza di ferro ci porterebbe la difesa da 4 a 6 ma in questo momento non ci interessa ad acciaio magari interesserebbe il busto diamante 12.000 è carino ci porterebbe a 17 sarebbe molto buono in questo momento double face kb colore dove fassi ci aumenta 2 di fisico e ci porta a difesa da 4 a 6 in questo momento sarebbe carino la cappa elfica porterebbe anche la difesa la porta a 7 il fisico a 4 sarebbe ancora più carino di questo la cappa di joseph vedi che seleziona colore il menu di sistema come vi dicevo prima questo prima insomma nell'episodio scorso per mezzo di questa cappa noi abilitiamo una voce del sistema che ci permette di personalizzarlo possiamo avere i colori personalizzati però è finora il migliore però diciamo che poi non ci darebbe più di tanto la medaglia costa 3000 ma la mappa del castello va comprata necessariamente per avere per capire bene o male le parti che dobbiamo visitare il rotolo magico contiene metamorfosi oscura dovremmo comprare anche però prima di tutto compriamo la mappa del castello che tanto è questo poi direi che al momento possiamo prendere la cappa elfica che ci mettiamo 4 di fisico e 7 di difesa anziché poi comunque li comprerò tutti in ogni caso perché tanto ci si tornerà qua a comprare le cose compro la cappa elfica così miglioriamo un pochettino ci giochiamo i nostri soldini perfetta per mimetizzarsi poi verremo a comprare le altre cose benissimo adesso lo equipaggiamo immediatamente la cappa mettiamo proprio quella elfica possiamo difesa 47 aumentiamo il fisico da 8 12 ok poi abbiamo questo poi il sistema come vi ho detto un'altra volta va bene ok abbiamo preso le cose che ci servivano ora vi faccio vedere la mappa praticamente ecco c'è la parte quella blu più scura che visualizza le parti della mappa che non abbiamo ancora visitato e che sono diciamo disponibili però anche nella parte quella che vedete lì ci sono delle porte che porterebbero in posti che non sono visualizzati nella mappa quindi c'è sempre ancora tanto da scoprire quindi possiamo andare un bel po avanti ora la cosa che io vorrei fare spero di poter fare è di andare a salvare nuovamente siamo ben lontani da una save room ma diciamo che è una cosa che voglio fare più presto speriamo che salendo una di quelle due stanze lì a sinistra possa essere una save room perché non mi ricordo e la cappa è verde è anche abbastanza carina devo dire so che deve essere su uno scalino per far sì che ora siamo un pochettino più potenti di prima anche un pochettino più difesi di prima però ci serve sempre un altro pochettino di ecco sugli scalini lui si copre avere per il verde proprio certo un verde del 97 quindi le palette di colori erano molto ristrette però insomma accontentate non abbiamo una grafica 16 milioni di colori cercate di ragionare con la testa di venti venti tre anni fa ecco noi dobbiamo salire lì ma in questo momento non ci possiamo salire al carbo a rugardo sembra di roma a rugardo ad osserva non colpire sparacino malattico un'altra corazza di cuoio se non sbaglio abbiamo già indossato infatti e noi saliamo su perché un cino va su chiediamolo su soldini soldini dobbiamo essere avidi servono i soldini in questo gioco servono anche che per ora non c'è andato niente poi quando andiamo avanti ci dà altri degli oggettini qui c'è una cosa bella che mi ricorda infatti a parte questi malattici libri che fanno malissimo ottenuto il rotolo fatato è un'altra reliquia che andiamo subito a guardare visualizza il nome del nemico cosa che prima fino a questo momento non potevamo fare quindi ogni volta che attacchiamo un mostro adesso ci dirà di che mostro si tratta tomo magico può sembrare una stupidaggine anche questa però devo ricaricarmi perché qua vicino siamo pressoché morti utilizziamo una pozione dai utilizziamo una pozione questa la usa direttamente quando ci ricarica 50 punti va benissimo ora vorrei possibilmente vedere se riesco a mi pare che non si possono vendere no possiamo vendere solo le pietre preziosa perché sarebbe bello poter vendere diciamo i multipli delle armi che abbiamo già 131 colpo critico ci sta va bene critico da 13 ci sta un po' meno il 1000 per cento di meno ah il pentagramma anche questa è un'arma a uso singolo poi vi farò vedere naturalmente nel momento in cui c'è da fare qualche cosa di più difficile insomma di ectoplasma ectoplasma che servono i ghostbusters ah mi ha tolto la maledizione mi ha tolto la possibilità di utilizzare l'arma quindi mi sbagliavo mi da anche questo mostro la maledizione dove sei? ah ah eccoti qua ectoplasma antimaledizione ultima certi questi siccome sono di bassa percentuale di trovata si trovano abbastanza facilmente poi con la fortuna messa al massimo giustamente si trovano ancora più facilmente di quanto non si troverebbero in media duro si chiama come atto simile a quelli che erano i processori della della md md duro vedo vieni c'è 62 nel frattempo richiamoci all'altro punto di salvataggio che era andiamo in basso quello in basso dovrebbe essere più semplice da raggiungere perché da questa parte praticamente come potete vedere quella parte di mappa in alto della biblioteca non possiamo raggiungere almeno non al momento sono cose che potremmo fare in seguito quindi andiamo intanto a salveggiare che cosa buona e giusta non preoccupatevi se il gioco vi sembra già scoperto mi si può sembrare corto perché vi assicuro che non è così è molto più longevo del previsto poi sappiamo che c'è anche lo slow video gamer che insomma non è rinomato per la sua velocità nell'eseguire i giochi e nel giocare per cui tranquillamente ragazzi ci prenderà un bel po' di puntate non mi fermo adesso a salvo ma voglio andare ancora un po' avanti siamo molto oltre solitamente i nostri tempi di gioco ma la cosa non mi dispiace assolutamente siamo a 65 in questo caso di energia io direi di andare a questo punto in alto in quella che sarebbe su questa torre a destra lo stanzino centrale la stanza centrale però ancora mi serve un altro tipo di spada al momento il gladio è la migliore che abbiamo la cappa verde è caratteristica siamo un pochettino più potenti di una bassa media iniziale però ancora non è il massimo io evito di prendere l'ascensore in salita perché come sempre voglio fare sempre un pochettino di esperienza e poi voglio anche sia vedere i mostri sia anche provare siccome abbiamo sempre la fortuna messa al massimo e cerco di evitare quanto più possibile strade facili voglio insomma che cadano che ci sia che droppino i giotti particolari schelarciera questi si chiamano moschettosso sono degli scheletri che hanno il moschetto si chiamano moschettosso guarda un po' che fantasia questa è la stanza centrale sì ma qui mi ricordo cosa c'è qua me lo ricordo bene chiamanzi passaggio dimensionale ora lo prendo e hop là boom e vado a finire guardate un po' dove sono in basso a sinistra vedete c'è il cerchietto che si illumina e si stringe sulla stanza gialla la stanza gialla equivale al passaggio sblocchiamo anche questo e adesso vi ricorderete sicuramente dove siamo all'inizio sblocchiamo il nostro muretto c'era una cosa che mi piaceva fare che era questa prende il max cuore aumenta nei cuori e dato che siamo qui vicino andiamo a risalvare un'altra tunica che non ci servirà ma noi la prendiamo perché ci piace fare i collezionisti i cuori a massimo sono 44 però adesso c'è un altro commento che leggo alugrin alugrin perché ha la cappa verde aluvigan ti immagini alucardo vegano lui che si è chiesto non è alucardo vegano fantastico anziché succhiare il sangue succhiare il succo di radicchio bene direi che a questo point dovrei andare a fare quella famosa caduta di là e l'andiamo a fare subito sempre che sia fattibile cadibile ogni tanto ogni tanto ogni tanto questa cosa riesce posso farla che la mia questa è caduta oppure non ancora sì facciamola eh volevo io provare a cadere di là che c'è quello stanzino di lì che non è facile andarci però ci voglio riprovare se non ci riesco una seconda volta perché c'era un piccolo trucchettino per arrivarci ma non era assolutamente facile perché come vedete è sattino qui è un pochettino ostico niente dai lasciamo stare ci finiremo poi in un'altra maniera un po' più comoda più consono dopo a questo punto da evitare di fare di nuovo tutta la strada che sarebbe tanto tanta tanto davvero anche se vi ripeto un bel po' di esperienza non guasterebbe assolutamente però utilizziamo per questo giro il passaggio poi un altro poco di esperienza magari la rimandiamo a un altro puntatino zombie di sangue sarebbe blood zombie vabbè innanzitutto vado a fare un altro salvataggio sarà ridondante fare i salvataggi ma io ragazzi siccome non costano niente ho sempre agito in questo modo e reagisco in questo modo spero che non sia troppo di disturbo per voi anche se lo sia diciamo che noi siamo per agchiruggere il disimpegno ok siamo qui siamo qui ora c'è un posto dove mi piace tantissimo andare ed è una cosa che davvero mi piace tanto 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 se è quella ricordo che sia quella ahah i soldini devo essere avido ragazzi per quanto sembri strano per quanto sembri inusuale stavolta toglie cinquantichè otto è servito un pochettino comprare l'armatura insomma comprare il mantello è servito praticamente quasi metà abbiamo ridotto il danno e non è cosa da poco per assicurare non è assolutamente cosa da poco proprio questo l'abbiamo già sboccato bisogna fare attenzione perché appaiono casualmente a sorpresa e sono delle malerette disgraziate queste schifose teste di medusa le odio è il mostro più fastidioso dell'universo penso che sia ma qui magari bene o male vi devo dire che nonostante tutto si può riuscire a mettere un pochettino da parte a cercare di ragionarci un attimo ci puoi anche riuscire ma c'è un altro posto che poi vedremo insieme vi assicuro che è una come si dice non lo posso dire tranquillamente nessuno si schifa vero è un dito nel culo parliamoci chiaro è veramente fastidiosa quella zona io la faccio solitamente sempre di corsa le prime volte poi quando magari ci ritorno e sono decisamente più potente allora ci perdo un po' di tempo ma quando ci vado per le prime volte dio ci scansi e liberi io cerco di scappare a come proprio a gambe elevate non è questo però il punto torre oro sarebbe la torre dell'orologio anche questo è un posto che mi piace moltissimo quasi un po' di 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 lord teschio caro lord teschio che è abbastanza citrina è un mostro abbastanza inusuale molto bello perché non te lo aspetti così grande è anche abbastanza potente devo dire vai che se fuori tiro ok c'è un altro mostro allo sopra lo vedo ti ho visto ok dobbiamo fare tutti i piani di questa cosa io cerco di sbloccare sempre al massimo poi vi renderete anche conto del perché facciamo una cosa una cosa stupida ma graziosa allo stesso tempo anche se qua non si può fare con il giocamento no devo cercare di fare una bella corsettina con il lupo ma niente l'energia del lupo è quella che vedete in alto a sinistra con la barra blu sopra i cuoricini che si va ricaricando che è la barra diciamo mistica chiamiamola così di quando ci si trasforma anche quando sarà la trasformazione nelle altre forme dietro nel condale vedete qua ci sono i figlioletti del teschio spettro quello era il lord specchio il lord teschio ecco qual è il problema non ricordavo questo particolare mi era sfuggito fino a questo momento è tanto tempo che non gioco ragazzi vi dirò che non mi dispiace aver dimenticato certe cose sinceramente non mi dispiace proprio per andare da quella parte giustamente loro sono spettri e passano attraverso i muri cosa che io non posso fare e non mi dispiace e non mi dispiace che possono fare giustamente ora io per andare da quella parte devo andarmi a ristabilire la devo finire praticamente la cosa la come si chiama la biblioteca in basso a sinistra altrimenti io devo fare che devo riuscire da qui per far riformare i ponti e fare un tentativo che a questo punto si siamo riformati basta uscire un attimo no non l'ho detto forse devo uscire completamente ci riprovo un'altra volta se così non fosse non pare strano perché altrimenti non si potrebbe passare mai più no si può passare ma non adesso diciamo allora ci provo un'altra volta ragazzi perché non ricordo sinceramente se si passava così se i muri cadessero se i ponti cadessero definitivamente non ricordo vedi è risplantato devo anche stare attento perché se mi colpiscano giustamente sapete c'è il backflip ecco qui ci si trova ad arrivare ma lì sopra non più questo è il doppio quindi in ogni caso non avrei potuto evitarlo ok in questo caso non posso proseguire da questa parte mi serve quell'altra magia che non vi dico al momento ve lo dirò quando la troveremo ve lo dirò soltanto quando lo dico io perché lo dicevo questo ah si sfotte quando sfotteva le due cascaselle chi l'ha fatto questo sono vecchio ragazzi sono vecchio assai niente andiamo a sbloccare quella parte malefica della della biblioteca quella in basso a sinistra che prima avevamo evitato quando abbiamo visto quella quella folla infinita di mostriciattoli maledetti sia degli spadaccini che di quelle scimmiettine che adesso non mi ricordo come si chiamano così è bello spunto il nome e stasera stiamo andando un po' oltre le nostre trasmissioni non abbiamo fatto mai trasmissioni così durature insomma salvo una volta quando ho fatto un episodio di Vanessing del gioco di Vanessing però era un casual play l'ho preso un pomeriggio non avevo nemmeno le cuffie ricordo cioè un gameplay senza le hand ho rischiato tantissimo testa nerviosa proprio si chiama testa nerviosa come chiameresti il tuo mosso se non testa nerviosa ho mostrato la forma di una testa nerviosa è un po' rischioso scendere così soprattutto andargli contro mentre lui si fa gli affari suoi però prendere qualche monetina non è male no lanciare preso già per l'otto questo lo stavo saltando mi ricordavo di te banana non mi ha preso una banana che cos'è una banana un frutto deliziosa se è matura e se non lo fosse caggettini strani cioè strani è una cosa abbastanza normale però che te lo lasci uno scheletro dentro un castello maledetto non è proprio normale no almeno per quello che io possa intendere poi magari chiunque ha la sua come si dice ognuno ha la vabbè lasciamo stare io non volevo che tu mi condessi è inutile che ti potenzi di disgraziato hai capito ma ho fatto lo scherzo di nuovo stavolta ti ho fregato io oh striscia abbiamo un'altra arma vediamo che arma intanto sale a 19 spada lama allunga vediamo un po' vabbè quanto mai è più potente 15 a 19 insomma si fa sentire la potenza guarda un po' già si è premunito il disgraziato porca miseria mi sa che è ora di mangiare la banana non so come ma utilizziamo la pozione dai utilizza direttamente perché prima che moriamo inutilmente non le vale proprio la pena vediamo come si chiamano questi disgraziati uomo pulce è un po' un po' più grande di una pulce ma noi senti hai distrutto l'anima figlio mio veramente non bastava no? preso 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 due pezzi di formaggio che possono essere sempre comodi una corazza corazza bronze non è di bronzo è proprio bronze vediamo quella di cui io ci da 7 questo ci aumenta di 1 non sarà proprio il massimo però quanto meno è un po' di più non c'è niente che si può rompere va bene ragazzi a questo punto andiamo verso il luogo di salvataggio questa volta abbiamo preso quel punto di difesa che ci serviva a farci ridurre il danno di questi a 1 un'altra spada Takenitsu questo mi pare che si ha due mani però il Takenitsu è vero e infatti ha due mani spada di bambù vediamo però è più lenta però vedete che quando do il colpo do anche all'indietro quindi se in quel momento c'è una una creatura che ho alle mie spalle riuscirei a prenderla pure ma non è il caso di prendere un'arma che mi occupi due mani no assolutamente no per niente proprio va bene proseguiamo verso il luogo di salvataggio sperando che ci arriviamo qua prima che ci distruggono questi disgraziati malattici un'altra stiscia vedi che ora si trovano di più queste armi perché abbiamo il fattore fortuna che non aiuto però non farsi colpire il fattore fortuna non si troverebbe non si troverebbe anche per benedizione divina va bene a questo punto direi di scendere andare a risalvare per questa sera poi diciamo che va bene anche così leggo ancora vorrei dire una cosa a proposito del gioco ma non posso fare spoiler ma è bene che tu non lo faccia perché oddio non so in quanti saremmo rimasti al mondo videogiocatori a non conoscere questo gioco perché comunque chi più chi meno l'ha giocato o visto in un modo o nell'altro però diciamo che ondevitare che ci sia qualcuno tra noi che voglia seguire il gioco che aspettava questo perché non lo conosceva o per qualsiasi altro motivo scelga questa strada allora è meglio di è meglio non parlare grazie comunque per aver tenuto la bocca chiusa sotto dato che conosci questa questa particolarità quindi saliamo 68 46 quindi diciamo che cominciamo a instradarci verso una stabilità ok ragazzi direi che per questa puntata è davvero davvero tutto abbiamo fatto un bel po' di cose ci siamo abbiamo ripetuto purtroppo un paio di volte il cammino ma siamo stati costretti per quello che è successo per quello che ne è andato abbiamo scoperto un altro po' di gioco ora io riprenderò una volta per rimettere a posto un po' l'inventario lo faccio offline insomma non lo faccio in diretta perché sistemarlo c'è da perdere un po' di tempo o magari si potrebbe anche fare per passare il tempo ma non adesso ragazzi dato che comunque l'orario è già andato avanti un po' poi per la prossima volta credo che cominceremo a tornare indietro andiamo a aprire le porte quelle azzurre che erano bloccate prima così possiamo visitare qualche ambiente in più detto questo io vi ringrazio come sempre per avermi seguito per essere stati con noi per essere rimasti in nostra compagnia per avermi pregiato della vostra compagnia vi auguro una buonanotte e come sempre l'augurio è sempre quello e vi invito anche di ritrovarci insieme al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti